Grazie per la visione! Come nello stile Bugatti, facilissimo da usare non solo per bollire l'acqua, ma anche per riscaldarla alla temperatura desiderata tra i 45 e i 100 gradi Celsius, per estrarre al meglio tutti gli aromi dei diversi tipi di tè e tisane. Hai rimosso tutti gli imballi e i sacchetti dei vari componenti? Sì? Anche l'etichetta sul manico? Ti consiglio di leggere con cura e attenzione il manuale di istruzioni, partendo dalle norme di sicurezza e controlla che nell'imballo siano presenti tutti i componenti come riportato nel libretto di istruzione. Hai lavato con cura le parti che vengono a contatto con l'acqua prima di utilizzare Vera per la prima volta? Bene! Vera deve stare su un piano asciutto e lontano da fonti di calore. Collega la spina. Fai attenzione e assicurati che la presa di casa tua sia provvista di messa a terra. Come ben sai, i prodotti elettronici sono sensibili agli sbalzi elettrici. Fatto? Ok! Ora posiziona il bollitore sulla base. Prima dell'utilizzo consigliamo di tenere il bollitore in carica per almeno 12 ore, onde favorire la carica completa della batteria. Come vedi, una volta collegata alla presa di corrente la base e posizionato il bollitore sulla base stessa, si illumina il display sul manico. Le cifre rappresentano l'orologio, mentre la barra orizzontale millilitri min lampeggia e indica che il bollitore deve essere riempito d'acqua. Per prima cosa regoliamo l'orologio. Premi per 4 secondi il pulsante MODE fino a che le cifre dell'ora non iniziano a lampeggiare. Premi il pulsante con il triangolo fino a che si seleziona l'ora. Adesso premi MODE per selezionare i minuti e procedi allo stesso modo per impostare i minuti. Perfetto! Adesso per confermare premi il tasto MODE per 4 secondi. Facile, no? Il coperchio si apre semplicemente premendo sul pulsante di gomma. Si apre da solo. Non ti preoccupare se non si apre completamente. Bugatti ha pensato alla tua sicurezza per evitare che eventuali gocce d'acqua calda possano uscire e accidentalmente scottarti. Ricorda di rimuovere il bollitore dalla base tutte le volte che lo vuoi riempire. Mi raccomando! Se superi il livello massimo di riempimento, la luce rossa lampeggia e i sistemi di sicurezza di VERA non le permetteranno di funzionare sino a quando il livello dell'acqua non sarà corretto. Con VERA puoi vedere il livello dell'acqua tramite 5 barre luminose poste sul manico del bollitore. Ricordati di riempire sempre il bollitore prima di accenderlo. Per richiudere il coperchio, premere in modo deciso sul pulsante in gomma fino a che il coperchio si aggancia e resta chiuso. Bene, ora siamo pronti per iniziare. Hai posizionato bene il bollitore sulla base? Premi il tasto ON-OFF e VERA incomincerà a scaldare l'acqua. Attraverso il display puoi vedere la temperatura dell'acqua all'interno del bollitore. Tutto normale! Questo è il lieve rumore dell'acqua che si riscala. Quando l'acqua arriva alla temperatura di 100 gradi, VERA si spegne automaticamente e sul display lampeggia la parola BOIL per qualche secondo e vedrai anche la temperatura raggiunta all'interno del bollitore. Per visualizzare nuovamente l'orologio, basta premere il pulsante con il triangolo. Tecnologico, no? Questo è niente. VERA può fare molto di più. Ho acquistato un tè molto particolare che libera tutti i suoi aromi alla temperatura di 85 gradi, non uno di più, e lo vorrei pronto per domattina alle 7 e 30. Facilissimo, vedrai. Premi il tasto MODE per un secondo. Si è accesa l'icona blu gradi Celsius e lampeggia la lettera P? Perfetto! Siamo nella sezione di programmazione. Puoi scegliere una temperatura compresa tra i 45 e i 98 gradi Celsius. Premi il pulsante TRIANGOLO sino alla temperatura di 85 gradi. Precisi, mi raccomando. Adesso impostiamo il timer alle 7 e 30, l'ora della mia colazione. Premi il pulsante MODE. Premi il tasto TRIANGOLO per impostare le ore. Così. Brava! Ora il tasto MODE per passare ai minuti e nuovamente il tasto TRIANGOLO sino ad arrivare a 30. Per confermare l'ora impostata, premi MODE per 4 secondi. Si è accesa l'icona P? Bene. VERA è programmata. Domani farà tutto da sola. Se invece vuoi fare tu, basterà premere ON-OFF. Esatto! E VERA porterà l'acqua alla temperatura impostata spegnendosi automaticamente quando la raggiunge. 85 gradi! Perfetto! Già sento l'aroma del mio strepitoso tè. Ah, dimenticavo. Per ragioni di sicurezza, le funzioni programmate funzionano una sola volta. Infatti, l'icona P si spegne dopo aver utilizzato l'impostazione programmata. Se domani vorrai riutilizzare la stessa impostazione, basterà premere per 4 secondi il pulsante con il triangolo e sul display verrà nuovamente visualizzata l'icona P. Visto che è così facile, io una tazza del mio tè la prenderei ora. Attenta che il bollitore è caldo. Prendilo per il manico, così non ti scotti. No, no, non occorre aprire il coperchio per versare. Vedi? Pratico e sicuro, no? Quando il bollitore non è sulla base, il display si spegne dopo 30 secondi. Ma se premi uno dei tre pulsanti? Sì, quello che vuoi. VERA ti mostra sul display l'ora e, oltre al livello dell'acqua contenuto, con un clic sul pulsante con il triangolo, anche la temperatura dell'acqua. Strepitosa, vera! VERA di Bugatti. Innovazione ed eleganza in cucina.